il ministero si fa da subito partecipe di un tavolo di confronto e di coordinamento tra team e starling per appunto trovare una soluzione che possa consentire la convivenza al meglio delle due tecnologie come prescrive peraltro la legge saremo noi a farci attori di questo tavolo di confronto e della soluzione che peraltro abbiamo già da qualche settimana attribuito un lavoro preparatorio fatto dalla fondazione bordoni in aus al ministero noi dobbiamo ovviamente come ministero garantire le parti e quindi team e i dati e le informazioni che possiede e nel contempo consentire ad attori come starling e anche ad altri di utilizzare questa nuova tecnologia a beneficio di tutti sarà il ministero parte protagonista nella mediazione nel confronto tra gli attori e nella individuazione della soluzione migliore che possa ovviamente garantire anche l'interesse nazionale quello riguarda gli uffici del del ministero di palazzo chigi che preparano l'istruttoria sulla golden power che noi abbiamo utilizzato secondo una chiara visione strategica tutela degli interessi nazionali ma sempre nel rispetto di quello che sono gli attori anche stranieri che operano nel nostro paese ricorda me stesso che su quasi 500 casi di esercizio della golden power in solo un caso è stato posto un divieto a un azienda che voleva operare nel nostro paese in 27 casi sono stati poste delle prescrizioni c'è delle condizioni per quel tipologia di investimento a garanzia appunto dell'interesse nazionale e questo sarà l'elemento che la strategia che ci muove nell'utilizzo di questo strumento la golden power in ogni ambito grazie a tutti grazie a tutti